Voglio collegare il mondo umano e quello dei demoni. Perché non liberarsi di questi confini e aspirare a un mondo più equo? Castia, verrà accadere qualcosa di interessante? Castia, verrà accadere qualcosa di interessante. Castia, verrà accadere qualcosa di interessante. Possiamo dare il via al vero divertimento. Devi essere forti, Yusuke. Io li proteggerò fino alla fine.